Eccoci qua amici, eccoci qua, mi sto preparando per farmi il succo verde, guardate che spettacolo, cicoria, vietola rossa, cavolo cappuccio, cavolo viola, cavolo fiore, cavolo romano, melagramme, finocchio, gambi di barbe vietola rossa, gambi di cavolo romano, barbe vietola rossa, vietola rossa, finocchio, cicoria, pressemolo, guardate qua che spettacolo, il verde è fondamentale, bene amici questa è tutta la robetta che uso oggi, una zucchina, un broccolo, due carote, questa è la roba che uso oggi, il coltello che non è, che non è in ceramica, tanto non conta niente, è tutta cazzata, l'ossidazione, la roba va, la roba si ossida, la lavorazione comporta un consumo ossidativo, fa parte del gioco, bene, adesso interrompo, la preparo tutta e poi facciamo un altro pezzettino, bene amici, sono in fase 2, ho sistemato tutto, stiamo tagliando tutti i pezzi, li stiamo preparando per la signorina Angel, perché lei vuole sempre tutto bello pronto, abbiamo già sminossato tutto, questa è la quantità industriale di bietole e cicoria, i sedani, i gambi, il brazzemolo, le venagrane che adesso sono da aprire e spellare, questa è la mela che mi mangio mentre faccio il succo verde, qua ho altre due mele da mettere nel succo verde, qui c'è la rapa rossa, qua finocchio e tutte le altre cose, carote, zucchine, tutto quanto, andiamo avanti, ecco qua, siamo pronti, tutte le verdure sono state tagliate, abbiamo messo la nostra vitamina C dentro i contenitori che la riceveranno, adesso iniziamo il nostro procedimento, tutta questa roba qui che voi vedete, è qui che c'è, questa è la vera cura, questa bassinella è piena di foglie verdi, anche questa, ciao Mitch, amore, ciao, non li saluti? au, iau, brutto, ecco, adesso si parte, ecco qua, il primo giro, lo abbiamo fatto, adesso, lo andiamo a filtrare, e poi andiamo avanti, ci riparte, a dopo, eccoci qua, altro giro fatto, qua si procede, si filtra, che a me piace, filtrato, il succo, questa ragazzi, questa è la mia chimioterapia, io do al mio corpo le sostanze che gli servono per sconfiggere il cancro, benvenuti al testo di oggi, come fanno quattro mariaggi a paghera, il cancro senza smettere di sconfiggere il cancro, bene, procediamo, a dopo, qua, la fibra cresce, ed eccoci qua, anche la terza bacinella, l'abbiamo riempita, ora mettiamo un po' di qua, un po' di là, facciamo un po' di casino, sporchiamo per terra, ma intanto noi ormai siamo abituati, questo è un laboratorio chimico, fisico, ormai questa cosa non ci sperimenta neanche più, intanto qua, aumenta la fibra, e dominiscono i prodotti da consumare, anzi da trasformare, farlo giusto da trasformare, ci guardiamo alla stessa notizia, bene amici, il lavoro è finito, ci abbiamo impiegato quasi due ore tra tutto, preparazione, pulizia, tutto quanto, abbiamo fatto i nostri quattro litri e mezzo di succo concentrato, qui questa non è più tagliata, vi ricordo che io continuo a tagliare i succhi, ma adesso non li taglio più prima, li archivio, li metto nel frigorifero così, e poi dopo li taglio, da l'irca, vi facciamo vedere anche il finale, bene amici, il succo è fatto, lo abbiamo messo nei suoi contenitori, adesso lo mettiamo sotto vuoto, questo è quello che è rimasto di tutto, a parte il succo, sono le ore, mamma mia, ci abbiamo messo due ore e mezzo, vabbè dopo c'è stata una telefonata di un'amica, non è piacevole telefonata, e adesso ci stendiamo sul divano, e anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere, non dimenticate di metterci la vitamina C aggiuntiva, adesso ce la mettiamo, dall'ircav succo verde, la vita eterna. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.